Il legale di Paola Marzenta, la 58enne, che lo scorso 18 ottobre con un colpo di fucile all'onnanno di Prato Vecchio avrebbe ucciso il marito di Nogoria, richiesto per la sua assistita ai domiciliari con il braccialetto elettronico. La difesa della donna ha depositato l'istanza al Tribunale del Riesame. Il risponso potrebbe arrivare entro dieci giorni. Paola Marzenta è detenuta nel carcere fiorentino di Sollicciano dal giorno dell'omicidio quando si costituì. Il legale della donna, Severi Agostini, adunque richiesto una misura cautelare e meno afflittiva per la donna, avrebbe anche indicato un'abitazione per l'eventuale permanenza agli arresti domiciliari. Intanto Paola Marzenta sabato è stata nuovamente visitata dal medico nominato dalla procura retina che dovrà valutare l'entità delle lesioni e degli ematomi presenti sul volto della 58enne per collocare così temporalmente il trauma. L'intento della procura è quello di comprendere se quei lividi presenti il giorno dell'omicidio erano una conseguenza di percossi inferte quello stesso giorno o di conducibili ad una data precedente.